Kina Nandez, grande prestazione, hai cercato il gol ma soprattutto hai cercato di finalizzare il migliore dei modi al novantesimo, testa giù, sentrai in area di rigore, il fallo c'era tutto, è giusto il calcio di rigore? Sì, come sappiamo questa squadra non mola mai, siamo stati fino al novantesimo a cercare il vantaggio sono riuscito a prendermi un rigore, Longo ha fatto gol e sono molto contento per la squadra Hai fatto una grandissima partita, dall'inizio alla fine hai cercato il gol, hai dato una mano ai tuoi compagni spesso ti sei un po' intestardito con azioni personali però va bene tutto perché l'obiettivo era vincere e la fine di vittoria è stata Sì, l'importante qua erano i tre punti che erano troppo importanti per andare ora alla sossa con la testa più giusta e tornare ancora con più voglia di fare sempre più punti e stare là su Dopo il mercato di riparazione hai deciso di rimanere a Termoli, diciamo che adesso sei l'uomo aggiunto l'uomo che dà qualcosa in più a questa squadra e lo stai dimostrando in mezzo al campo Sì, sono rimasto qua perché ci sta la squadra, hanno fatto pure un bel mercato e voleva rimanere qua e rimanere a questa squadra in Serie D che è quello che merita Con questa vittoria il sapore e il gusto di una salvezza che sta pian piano arrivando c'è la sosta però lavorerete lo stesso in questi 15 giorni? Sì, in questi 15 giorni lavoreremo per tornare con più voglia come ho detto prima e più grinta per andare sempre a prendere i tre punti pure fuori casa Sì, in questi 15 giorni lavoreremo per tornare a prendere i tre punti pure fuori casa